Strategia digitale, idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online, a cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Sono carichissimo ragazzi, oggi scopriremo insieme un souvenir digitale, veramente con i fiocchi. Che cosa sono i souvenir digitali prima di tutto, se per caso stai ascoltando questo podcast per la prima volta nella tua vita? Noi qui su Strategia Digitale chiamiamo souvenir digitale tutte quelle cosine, i software, le app, le tecnologie, i contenuti, i film, che possono cambiare in meglio la nostra vita o il nostro lavoro nel mondo digitale. E oggi ce n'è uno veramente progettato per il benessere, per cambiare la nostra vita in meglio, insegnandoci a controllare, a gestire, a porre rimedio alla dipendenza da smartphone. Ragazzi, se state scuotendo la testa e dicendo no, no, ma io non sono dipendente da smartphone, voglio sfidarvi con questo souvenir digitale. E' incredibile quello che vi potrà rivelare su voi stessi, perché molte volte è più dipendente da smartphone proprio chi meno pensa di esserle. Poi ci sono quelli che stanno sempre lì perché dicono io con lo smartphone ci lavoro, io sono tra quelli ragazzi, eh. E io con lo smartphone ci lavoro, mica ci gioco, mica sto lì a mandare i messaggini su WhatsApp o a giocare. Io faccio il business, eppure utilizzare questi strumenti come strumento di lavoro può portarci a uno stato di assenza di benessere, di malessere, di ansia, di sensazione di non arrivare mai alla fine delle cose. Bene, abbiamo parlato nell'ultimo episodio di digital detox, di disintossicazione del digitale, di equilibrio tra gli aspetti digitali della nostra vita e del nostro business e quelli umani, quelli che ci fanno bene a noi come persone. Ottimo, abbiamo messo in campo, stiamo per mettere in campo uno strumento potente per il digital detox. Ne ho parlato anche a Alessio e lui pure lo conosce e gli piace, quindi non mi resta altro. Dopo avervi ricordato che strategiadigitale.info è il luogo dove andare anche per scoprire i souvenir digitali del passato. Se questo ti piace, vai a vedere quelli del passato che abbiamo tutti lì archiviati su strategiadigitale.info, ma bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire insieme come rimediare alla dipendenza da smartphone. Il souvenir digitale Il souvenir digitale Sì, ok ragazzi, mi è partito il jingle sbagliato. Vabbè, succede, succede, questo è tutta una settimana di ripresa, state tranquilli. Vi voglio presentare Moment. Che cos'è Moment? È un'applicazione per smartphone che vi consente di fare qualcosa di concreto contro la dipendenza da smartphone e per la disintossicazione dal digitale. Velocemente, come funziona Moment? La installate sul vostro telefono e comincia a monitorare quanto tempo passate davanti allo schermo. Infatti, la prima schermata, la sto aprendo, di Moment è proprio lo screen time. Oggi sono stato davanti allo schermo del telefono, ragazzi, solo 33 minuti. 33 minuti. Direte voi, vabbè, 33 minuti magari è tanto. No, non è tanto. Pensate che venerdì 5 gennaio ci sono stato 3 ore e 6 minuti. Ma non telefonando, non ascoltando podcast. Proprio davanti allo schermo, a fare robe davanti allo schermo del telefono. E allora diventa, prima di tutto, uno strumento molto importante di consapevolezza. Il passaggio successivo è la sezione Insights, le informazioni riassuntive sulle abitudini. Quindi, quante volte hai preso, quante volte prendi di media il telefono? Sapete quante volte lo prendo io? Lo prendo 45 volte al giorno, ok? 45 volte al giorno prendo il telefono in mano. C'è l'applicazione più utilizzata, la percentuale del tuo tempo da sveglio che utilizzi davanti allo smartphone, il tempo medio che ci passi al di là delle singole giornate della prima schermata. E anche le ore di sonno. Questa è un'altra cosa curiosa. Da quando spegni lo smartphone a quando lo riprendi il giorno successivo. Questo è essenziale. Soprattutto se hai ascoltato la puntata con Alessio Carciofi, in cui abbiamo presentato il libro Digital Detox, questo tema del sonno è un tema importantissimo, l'interazione con i social media. proprio perché ci sembra di riposare tutto il tempo che passiamo magari fuori dalle attività lavorative. Per esempio a mia moglie piace molto guardare serie su Netflix. Ma nel momento in cui guardi serie su Netflix non stai riposando veramente, non stai ricaricando le batterie. Stai facendo un'attività di intrattenimento, ma pur sempre un'attività digitale. Quindi Alessio dice proprio come noi ricarichiamo la batteria dello smartphone e per attaccarla devi metterci il filo, non puoi fare altro. Bene, allo stesso modo ti devi ricaricare. L'unico modo per ricaricarti veramente è dormire. Allora, seconda schermata. Abbiamo dei dati riassuntivi sull'utilizzo del nostro smartphone, ma la parte veramente figa arriva con la sezione coach. Io in particolare sto facendo un programma, un corso, ce ne sono vari. L'applicazione è totalmente gratuita. Alcuni programmi di coaching, alcune funzionalità dell'applicazione sono funzionalità premium, quindi è sul modello freemium, una parte gratuita. Se vuoi cose più avanzate lo puoi pagare, mi pare, 4 dollari e 99, niente di particolare. Sto facendo un programma di coaching, un corso all'interno dell'applicazione in cui ogni giorno ti vengono lanciate delle sfide. Quindi per esempio il primo giorno devi semplicemente osservare il tuo utilizzo dell'applicazione e fare una foto alle applicazioni più utilizzate. Fino a qua tranquillo. Già il secondo giorno diventa tosto. Prendi il tuo smartphone e lo mettilo in un posto dove non ti viene facile prenderlo. Quindi se stai in giro, non te lo mettere in tasca, mettilo in una tasca della borsa. Se stai a casa, mettilo all'interno di un cassetto. Poi arriva il giorno del Photo Free Day, il giorno in cui non puoi prendere, non puoi fare neanche una foto, neanche una. E là comincia a sentirti male perché, oddio, devo fotografare sta cosa, non posso. E poi arriva il giorno in cui ti, vabbè, non ve lo dico, non ve lo voglio spoilerare, è veramente una gran figata. Vi dico che io, quello che succede al giorno 5, per esempio, non sono ancora riuscito a farlo. Oggi sto, il task di oggi lo sto portando avanti. Insomma, andate e guardate le sfide che vi lancia ed è veramente, veramente sfidante, diventa sempre più sfidante e ti fa rendere conto di quanto in fondo sei dipendente dallo smartphone. Oltretutto, anche i testi introduttivi alle varie sfide sono estremamente brillanti, riescono proprio a toccare delle corde della nostra emozionalità, delle abitudini di utilizzo dello smartphone e quindi fanno anche sorridere. L'impressione di utilizzando questa applicazione è un po' di leggere un libro. Ecco, è fatta come se leggessi un libro. Oltretutto è molto minimalista, tutta bianca, è molto riposante e ti manda delle notifiche se vede che tu fai il monello. Cioè, piano piano, durante la giornata, ehi, attento, perché stai facendo qua, ehi, attento, stai facendo là, ti sei ricordato di fare questo o quell'altro. Quindi diventa un vero e proprio coach per il tuo Digital Detox. Ma, cosa si può fare per questo Digital Detox? Prima di tutto, io credo che chi più, chi meno, ma tutti coloro che utilizzano media digitali, prima o poi incappano nel desiderio e nella necessità di disintossicarsi, di trovare il giusto bilanciamento, diceva Alessio, tra la velocità del digital e la profondità dell'umanità, dell'essere umano, dando un senso più profondo, dando maggior spazio alle cose di cui abbiamo bisogno, al provare le emozioni, a ragionare, al scompattare i pensieri compattati del nostro, della nostra routine quotidiana per ritrovare un benessere. Io, personalmente, oltretutto, questa settimana proprio ho fatto un talk nel digital mastermind sul digital detox portando la mia esperienza personale perché personalmente sono arrivato a un momento di esaurimento nervoso e ho dovuto disintossicarmi in maniera forzata dal digital negli anni dell'università per ben due anni non ho potuto toccare un computer. Ho dovuto proprio formattare e regalare il mio computer per due anni non ho toccato un computer, sono andato lì con la penna e la carta come gli antichi per poi, piano piano, rintrodurre il digital nella mia vita in maniera però attentamente bilanciata perché il digital è uno strumento estremamente potente ti potenzia è un vero proprio superpotere ma come ogni superpotere se Batman anzi se Bruce Wayne non si leva il costume da Batman un giorno due giorni tre giorni alla fine si dimentica di essere Bruce Wayne e pensa di essere solo Batman e rimane nella Bat-caverna e perde tutto il resto della sua vita. Cosa si può fare realmente? voglio darvi dei consigli basati sulla mia esperienza prima di tutto primo consiglio è l'osservazione bisogna osservare quello che facciamo avere dei dati che non siano dei dati emozionali quanto va io non ci sto tanto davanti al computer no ma io lo smartphone non lo utilizzo tanto ma in base a cosa? cioè su cosa ti basi? su cosa si basa questa osservazione? sull'auto percezione? attenzione perché il tuo cervello quando è occupato e stimolato non percepisce il tempo in maniera reale e allora è importante uno strumento come Moment perché ti consente di vedere i numeri cioè ci sei stato un'ora e 27 minuti davanti allo schermo e mentre lo guardi ti scatta il ventottesimo minuto quindi ti misura cronometra in maniera assolutamente oggettiva il tuo utilizzo dello smartphone e questa osservazione è estremamente importante a questa osservazione consiglio numero due deve secondo me seguire una progettazione cioè non vabbè c'ho lo smartphone quindi le notifiche le ricevo no devo decidere io quando è che lo smartphone l'utilizzo la presenza l'essere operativo dello smartphone aggiunge valore o toglie valore per esempio in questo momento sto parlando con te lo smartphone attivo fuori dalla modalità uso in aereo non aggiunge valore perché se squilla ci dà fastidio sto registrando un podcast e quindi farebbe rumore mi darebbe fastidio ma anche quando sto a cena con mia moglie e le mie figlie lo smartphone non aggiunge valore se invece non lo so sono nel tragitto per andare a fare lezioni dall'altra parte di Roma e voglio tenermi aggiornato e contemporaneamente intrattenermi ascoltare un podcast di un argomento interessante aggiunge valore allora lo farò lo farò sarà una cosa positiva quindi non è no allora è cattivo il digital non ci dobbiamo disintossicare no è trovare un bilanciamento e trovare e focalizzarsi sul reale valore mi aggiunge valore o non mi aggiunge valore se non ti aggiunge valore puoi progettare di togliere di rimuovere il digital da quella sezione della tua giornata e così anche il terzo consiglio decentralizzare cioè far sì che lo smartphone non sia l'epicentro di tutte le cose ti fa da sveglia da computer da da calendario da agenda da rubrica ti fa pure il caffè no decentralizziamo una chiave il mio amico Luca Conti per esempio nel suo bellissimo podcast equilibrio digitale che vi ho presentato qualche mese fa dice ma per svegliarti siccome avere il telefono lo smartphone sul comodino e doverlo spegnere implica che tu guardi lo schermo premi un tasto e subito dopo vedi le notifiche in evase le notifiche che ti sono arrivate mentre il telefono era offline ecco conosci quella dinamica fai in modo che il telefono non sia la tua sveglia ti compri una bella sveglietta da Ikea io ce n'ho una senti come suona bene è la sveglietta di Ikea quadrata da 5 euro che ti cambia la vita perché? perché di nuovo hai la sveglia come gli antichi e lo smartphone lo puoi lasciare nella parte più lontana di casa il quarto consiglio che ti do è localizza l'utilizzo del digitale io per esempio non utilizzo mai il digitale in camera da letto proprio una no digital zone al tempo stesso la mia scrivania è il regno del digitale schermo qua schermo là computer cavi usb dispositivi tutto pronto per lavorare per utilizzare il digitale ci sono dei posti dove il digitale c'è non mi metto sul divano con dispositivi digitali se devo utilizzare qualcosa di digitale mi metto al tavolo ecco è importante localizzare così come ho localizzato un cassetto che nella mia libreria appena entro in casa c'è un cassetto che è il cassetto del telefono entro in casa metto il telefono nel cassetto chiudo il cassetto e mi godo la vita senza bisogno di tenere sto telefono in giro di non trovarlo di avere essere sotto sempre lo scasco delle notifiche un quinto consiglio è meditare prendersi del tempo per lo spirito per espandere il nostro pensiero il nostro sé interiore io personalmente lo utilizzo per la preghiera dedico 15 minuti al giorno completamente isolato da tutto il resto per dare spazio all'universo interiore ma a prescindere da quello che ci fai in quei 15 minuti in quei 10 minuti in quei 5 minuti è importante secondo me trovare dello spazio totalmente disconnesso per meditare ecco per meditare per dare spazio alla mente allo spirito al pensiero il mio sesto consiglio è ritualizzare per esempio quando io sono a pranzo con qualcuno quello che faccio ho un piccolo rito ecco lo smartphone mi è caduto sul tavolo ho un piccolo rito che è prendere lo smartphone appena iniziamo a parlare e dire scusa un attimo Francesco spengo lo smartphone perché voglio proprio godermi questo pranzo insieme a te e prendo lo spengo e lo metto in tasca conseguenza di questa ritualizzazione uno che è proprio un rito e quindi mi viene spontaneo farlo quindi non ho bisogno di pensare aspetta ora a pranzo con Francesco vado a spegnere il cellulare mi viene proprio spontaneo numero due dove Francesco percepisce il valore di quell'azione non è che ho messo in mood il cellulare e lui non lo sa è un gli comunico viviamo insieme questo momento come un vero e proprio rito di amicizia rito di empatia rito di ascolto e lui stesso risponde a questa azione molte volte dicendo ma lo sai che lo faccio lo spengo anch'io e quindi abbiamo uno spazio speciale per stare insieme per dialogare per ascoltarci veramente ultimo consiglio è dedichiamo del tempo all'organizzazione al al riordino facciamo in modo che il nostro spazio fisico e il nostro spazio digitale possano essere dei luoghi dove non c'è di più di quello che ci serve dove le cose sono ordinate sono al posto loro dove non dobbiamo star dietro a quel file che non troviamo non ce lo ricordiamo poi si lo ripesco tramite dropbox facciamo in modo di tenere le cose in ordine e diamoci dei tempi di decompressione di riordino io per esempio in particolare vivo e lavoro nello stesso edificio mi basta scendere una rampa di scale e allora per me è importante ogni giorno darmi un tempo di decompressione in cui metto in ordine i file sistemo le cose sistemo fisicamente l'ufficio prendo spengo tutte le luci chiudo le finestre e vado a casa questo è un tempo molto importante per non passare in maniera brusca dal digital al non digital alla vita reale cosa che darebbe un effetto bungee jumping cioè rimbalzo vado dal digital stacco di corsa entro nella vita poi rimbalzo e ritorno su una notifica su un email su un messaggio che mi è arrivato lo scopo di moment lo scopo di tutte queste cose che ci siamo detti beh lo scopo non è utilizzare meno il digital ma è raggiungere con dando al nostro cervello alla nostra vita al nostro pensiero quello che gli serve raggiungere attraverso questo nutrimento una situazione di maggiore benessere di maggiore produttività e di maggiore creatività siamo arrivati alla fine della nostra puntata allora ragazzi il souvenir digitale di oggi spero vi abbia stuzzicato se è così se vi ha stuzzicato provatelo subito vi metto il link in descrizione e che dire io ringrazio di cuore tutti i produttori di strategia digitale che oltre a essere finanziatori sono anche dei pazzi sperimentatori e mi suggeriscono nuovi tool nuove cose da provare nuovi servizi quindi è veramente per me una ricchezza enorme quando mi suggerite qualcosa soprattutto perché poi quando me lo suggerite l'avete provato personalmente quindi a tutti i finanziatori continuate così a mandarmi i vostri suggerimenti e soprattutto continuate così a far parte della nostra community la community di strategia digitale un grazie grandissimo a Dota Bertolone coautrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it curatore del nostro sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille grazie mille grazie mille